Keolan Smith è stata di recente protagonista di un'intervista approfondita su Bella Ma, il programma condotto da Pierluigi Diaco su Rai 2. La celebre ballerina, amata per il suo ruolo in Ballando con le stelle, si è aperta riguardo alla sua costante lotta contro il cancro al seno, una battaglia che porta avanti con coraggio da anni. Lo scorso marzo, Smith ha condiviso sui suoi social che il cancro era tornato per la terza volta dalla diagnosi iniziale nel 2005. In questa occasione è un po' più difficile, ha confessato. Ce la faccio, ma non riesco a capire esattamente perché questa volta si sente diverso dalle battaglie precedenti. Si spera sempre in quel momento in cui ti dicono che è tutto finito, ma purtroppo non accade mai completamente. Rimane, si nasconde a tratti, perché, sfortunatamente, non esiste ancora una cura che possa sconfiggere questo tipo di cancro. Durante un'intervista con Silvia Tofanina Verissimo, ha poi aggiunto, «Ho paura?», «Sì, ho paura, ma continuerò a combattere finché potrò. Sto iniziando a capire che la mia vulnerabilità è anche la mia forza». Durante la sua apparizione su Bella Ma, Caroline ha condiviso un aspetto personale e finora inedito della sua malattia. «Il mio percorso oncologico ha portato via la sensazione ai miei piedi, e ancora oggi ho difficoltà a controllarli. Il che per me è più devastante del tumore stesso», ha spiegato l'ex ballerina. Parlando di danza, Caroline Smith ha rivelato di non aver mai intrapreso una relazione romantica con un collega ballerino. «Non mi sono mai innamorata di un partner di danza. È una regola che mi sono imposta fin dall'inizio perché non si dovrebbe mescolare la vita personale con la professione. Non c'è mai stato nemmeno il desiderio». Lascia la tua opinione nei commenti, iscriviti e metti un bel mi piace al video, per noi è importante. Grazie, ci vediamo nel prossimo video.